Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie ai vaccini dell'Agenzia Europea dei Medicinali. Buonasera e benvenuto. La lascio subito. Parlavamo prima del backstage, si riparlava dei dati relativi alla campagna vaccinale. Dato dell'altro giorno, 700.000 italiani fragili, quindi over 60, vaccinati su una platea di 20 milioni di persone che dovrebbero fare il vaccino. Preoccupante. Preoccupato. Ci dica lei. Bene. Quindi, parliamo di pandemia. Siamo tutti stanchi, vorremmo smettere di parlare di pandemia, siamo appena usciti dal Covid. Eppure, come diceva Churchill, mai sprecare una buona crisi. È molto importante guardare che cosa abbiamo imparato dalla pandemia e non dimenticarcene immediatamente. Quello che spesso succede è che dopo una crisi di questo tipo si vuole passare oltre, si vuole dimenticare e non si capisce che invece è il momento di riflettere, è il momento di capire che cosa si può fare meglio per essere più preparati quando ce ne sarà un'altra. Quindi, in questo mondo in cui c'è una bulimia di presente, dobbiamo ricordarci l'importanza di guardare al passato, capire il passato e implementare e disegnare strategie per il futuro. Però, come appena detto, fatemi dire prima due parole riguardo al presente. La pandemia è finita, questo è chiaro. Però il virus c'è ancora. Il virus non è sparito. Il virus è rimasto tra di noi. E sebbene per la maggior parte di noi non è così pericoloso, al limite ci può dare un po' un raffreddore, del mal di gola, un po' di tosse, magari un po' di febbre, però per chi è anziano, per chi ha delle altre patologie e soprattutto per chi ha un sistema immunitario che non funziona molto bene, questo vaccino, che è ad oggi disponibile in una forma adattata alle nuove varianti in circolazione, è potenzialmente un salvavita. Quindi l'incoraggiamento è che tutti i fragili e le persone anziane si rivaccinino per il Covid e possibilmente anche per l'influenza. I dati in Italia purtroppo non sono molto positivi. Come abbiamo appena detto, più o meno il 4% dei soggetti sopra i 60 anni è stato rivaccinato ad oggi, anche se le campagne vaccinali vanno avanti, anzi probabilmente ci sarà un'ulteriore spinta nelle prossime settimane. E per darvi giusto qualche pietra di paragone, se guardiamo ad altri paesi europei, in Danimarca, gli ultra 65 anni, il 70% si sono vaccinati per il Covid, in Belgio il 50% e in Olanda il 35%. Quindi la situazione italiana effettivamente è piuttosto preoccupante e dobbiamo fare meglio e convincere chi ha rischio a rivaccinarsi. Ora, guardiamo adesso a cos'è stato il Covid. Il Covid, come abbiamo detto, è stata la più grande crisi sanitaria degli ultimi anni, devo dire di fatto dalla spagnola del 1918, l'evento di più grande portata da un punto di vista sanitario. Alcuni numeri si parla fino a 7 milioni di morti globalmente. Il 25% di aumento di ansia e depressione, perché non dimentichiamoci che non sono solo quelli che purtroppo sono morti a causa di questo virus, ma anche quelli che hanno avuto un Covid che ha portato una serie di eventi debilitanti, come la presenza del cosiddetto Long Covid. Ancora ad oggi ci sono soggetti che dopo due anni soffrono di sintomi da Long Covid che sono altamente debilitanti, al punto che recentemente abbiamo fatto un gruppo di lavoro, includendo anche dei rappresentanti dei pazienti, ci dicevano che in Svizzera alcuni di questi pazienti soffrono così tanto che preferiscono andare verso il suicidio assistito. Quindi questo per dire che, sebbene una minoranza, ci sono molti che hanno sofferto altamente dal Covid e non ne stanno uscendo. Quindi dobbiamo pensare anche a loro e pensare a come migliorare la loro qualità di vita con potenzialmente medicine, interventi che possano migliorare il loro stato di salute. Le vite umane sono la cosa più importante, ma come ben sapete la pandemia ha avuto un impatto sull'economia devastante. Molti paesi, la gran parte del paese, hanno avuto una caduta del PIL tra il 2 e il 4%. Si parla di un costo della pandemia fino al 2024 che arriva fino a 14 migliaia di miliardi di dollari. Quindi, come capite, non è solo una questione di salute, anche se la salute rimane centrale e il punto di partenza, ma c'è anche un impatto economico che va considerato e bisogna pensare quali sono gli interventi che possono permetterci un domani di fare meglio e di poter ridurre questo impatto sia in termini di vite umane che di impatto economico. Come sapete, i vaccini, per quanto tutt'oggi, sorprendentemente ancora qualcuno li mette in dubbio, sono stati dei veri salvavite e hanno cambiato il corso della pandemia. Stime di lavori fatti da diversi gruppi parlano di fino a 20 milioni di vite salvate dai vaccini. Questo non va sottovalutato. Questo significa che se abbiamo dei vaccini, possibilmente disponibili ancora prima, ma saremmo in grado di salvare molte più vite. I vaccini sono stati sviluppati in tempi record, si parla di meno di un anno. Come ben sapete, noi come agenzia regolatoria abbiamo lavorato con chi li sviluppava, con la comunità scientifica e con agenzie regolatorie in tutto il mondo, per fare in modo che questi vaccini arrivassero il prima possibile. E vi posso assicurare che tutti gli studi che normalmente richiediamo per qualsiasi vaccino che venga approvato dall'EMA sono stati condotti. Quello che è stato diverso è che c'è stato un grande impegno da parte di tutti, dei governi, delle aziende, della società, per fare in modo che questi vaccini avanzassero molto più velocemente di quanto normalmente accade, e quindi con dei grandi investimenti che hanno permesso di compattare tutti questi studi che noi abbiamo bisogno per poter dare il via libera e poter dire che i vaccini sono sicuri ed efficaci, sono stati condotti in un tempo record. L'obiettivo nel futuro è di fare ancora meglio, di essere ancora più veloci, di poter avere dei vaccini pronti ancora prima. E poi una parola anche sulle cure, non dimentichiamoci quello che è successo con le diverse cure. Esperti di ogni tipo che suggerivano di usare il farmaco A piuttosto che il farmaco V, vi ricordate l'idrossiclorochina ad esempio, con anche discussioni con i politici che sapevano meglio di altri cosa bisognava utilizzare. Ebbene, anche su questo, quello che abbiamo imparato è che dobbiamo generare evidenze scientifiche solide il prima possibile, con studi clinici ben disegnati, così che possiamo capire quanto prima quali sono i farmaci che sono attivi e che possono essere un ulteriore approccio per migliorare la sopravvivenza e salvare vite umane. Quindi anche qui noi stiamo lavorando parecchio per fare in modo che ci sia una capacità in futuro di avanzare anche prodotti terapeutici il prima possibile, che insieme con i vaccini formerebbero poi una barriera estremamente importante per difenderci da queste pandemie. C'è della fatica vaccinale, lo sappiamo. L'Italia in questo momento non sta facendo bene, ma fino alle terze dosi è stato uno dei paesi con un'altissima adesione alle campagne vaccinali. Quindi dobbiamo capire meglio qual è la motivazione di questa stanchezza vaccinale, come possiamo comunicare meglio con il pubblico. E a questo riguardo mi duole parlare anche appunto del fenomeno della disinformazione, che è una pandemia nella pandemia che abbiamo visto in questi anni, ovvero questa tendenza da parte di gruppi disparati, di pseudo esperti, di uscire con le loro visioni, con i loro studi, che non si capisce bene da dove vengano. E questo ha creato una grande confusione nel pubblico. Questa grande confusione nel pubblico necessita che le istituzioni intervengano, ed è per questo che noi come EMA, con altre istituzioni europee e anche a livello nazionale, non abbiamo potuto fare a meno di intervenire, di parlare direttamente al pubblico, di metterci la faccia e di spiegare la scienza dietro le nostre decisioni. E' molto difficile per chi è a casa cercare di capire chi è nel giusto, chi è nello sbagliato, chi dà il consiglio giusto, chi invece no. Ecco, su questo dobbiamo lavorare di più. E come diceva Karl Krauss nel 1907 a Vienna, affermava in un aforisma che iniziava dicendo l'essere nemici della vaccinazione è diventata una professione. Devo dire che i nemici della vaccinazione non sono dei professionisti, ma sono parte di una religione. Con loro è molto difficile parlare, l'approccio è dogmatico, ed è molto difficile creare un dialogo che ci permetta di capirci e di trovare una soluzione. Quella che è diventata la professione, purtroppo, è quella di manipolare i dati. E questo lo vediamo sempre di più e con l'intelligenza artificiale purtroppo ci sarà un'ulteriore espansione. Quindi dobbiamo pensare a come riuscire a trasmettere i dati corretti ai cittadini, come poter interagire con loro e descrivere quali sono state le basi delle nostre decisioni e perché certi vaccini devono e possono essere usati e in quali condizioni. Quindi c'è molto lavoro da fare sulla disinformazione che, come tutti hanno detto, è stata una vera pandemia. E se siete curiosi di sapere come finiva l'afforisma di Carl Krauss, diceva a quel tempo che anche questi nemici della vaccinazione avevano capito l'importanza della prevenzione, solo che esageravano un po', perché pensavano di prendersi il vaiolo così da proteggersi dal vaccino. Ecco, il vaiolo. Il vaiolo è una malattia che ha tempestato l'immunità per migliaia d'anni, causando delle epidemie massicce sin dai tempi antichi. Questo patogeno è stato eradicato grazie ai vaccini. Quindi non dimentichiamoci l'impatto che i vaccini possono avere. Oggi non esiste più. E questo grazie alle campagne vaccinali che sono state condotte qualche anno fa, una cinquantina d'anni fa, in tutto il mondo. Quindi i vaccini sono un patrimonio dell'umanità, dobbiamo difenderli. Certo, alcuni hanno degli effetti collaterali. Il nostro lavoro come agenzia regolatoria è di vigilare su questi effetti collaterali, cercare di capire quali sono, cercare di descriverli, informare prontamente i cittadini. Ma per tutti i vaccini che abbiamo approvato e che sono stati usati, non possiamo che constatare quanto sono stati importanti nell'eradicare e nello sconfiggere malattie che portavano morte e miseria. Bene, ora, questo è quello che abbiamo visto durante la pandemia. Adesso guardiamo a che cosa abbiamo davanti a noi. Quali sono i prossimi rischi? Che cosa ci aspetta il futuro? Quali sono i patogeni che potrebbero causare pandemia in futuro? Ci sono principalmente tre considerazioni che dobbiamo fare riguardo a un mondo che è molto dinamico, come inevitabilmente deve esserlo. Prima di tutto, il mondo in cui viviamo è sempre più interconnesso. Quindi cosa vuol dire? Che come tutti viaggiamo in poche ore da una parte all'altra del globo, così lo fanno i patogeni. Ad esempio, c'è un virus che si chiama Zika, che viveva tranquillamente in alcune isole del sud-est asiatico, nel Pacifico e anche in certe parti dell'Africa, e non si era mai spostato da lì e non aveva mai creato dei grossi problemi. Non era un patogeno particolarmente virulento che causava una malattia grave. Nel 2014, una forma leggermente diversa di questo virus attraversò tutto l'Oceano Pacifico, quindi dalle isole del Pacifico vicino all'Oceania, e arrivò in Brasile, dove causò un'epidemia mai vista, però con delle conseguenze molto gravi. Infatti questo virus causa delle sindrome neurologiche importanti nell'anziano e soprattutto causa malformazioni nei neonati. Ebbene, questo virus ha viaggiato velocissimamente da una parte del mondo dove probabilmente non avrebbe avuto molte opzioni in passato poi di andare altrove, invece in un mondo che è molto più interconnesso è molto più facile che i patogeni si spostino da una parte all'altra del mondo e che causano problemi. Quindi questo è un elemento che dobbiamo considerare quando cerchiamo di mappare i diversi patogeni e quali possono essere i rischi per la salute nel futuro. Il secondo elemento è il riscaldamento globale. Come ben sapete, recentemente è stato riportato che la febbre di denghi è stata vista in Lombardia, una cosa che non era mai accaduta. E qualche anno prima era successo con il virus Cicongunya, un altro virus che solitamente vive in zone tropicali e subtropicali. E questo è legato al riscaldamento globale, al fatto che zanzare che normalmente non erano presenti da noi anche in Italia, adesso lo sono stabilmente e non solo durante i periodi estivi, ma anche quasi lungo tutto l'arco dell'anno. Quindi dobbiamo essere pronti a una maggiore diffusione di questi tipi di virus che possono causare epidemia in futuro. E la febbre di denghi è una di queste. Un tipo di virus che di fatto sono almeno quattro virus diversi, che in diverse parti del mondo causano epidemia anche molto grave, soprattutto per la popolazione pediatrica. Quindi dobbiamo pensare come avere vaccini disponibili per questi nuovi virus e non pensare solitamente a questi vaccini come vaccino per viaggiatori, per chi magari va a fare un viaggio, va a fare un safari, un viaggio esotico in alcune parti del mondo, ma anche in Europa. Questo è un cambiamento radicale che dobbiamo essere pronti ad affrontare. La terza cosa molto importante è il fatto che le espansioni degli agglomerati urbani e umani hanno distrutto, stanno distruggendo molti degli abitanti naturali, non solo nell'emisfero nord del mondo, ma anche in altre parti del mondo. E questo comporta che si distruggono degli ecosistemi e si entra sempre più in contatto con specie animali con cui prima non eravamo in contatto, avevamo pochissimi contatti. Il SARS-CoV-2 è un esempio di questo. I coronavirus sono un buon esempio di questo tipo di interazione, di che cosa vuol dire quando entriamo in contatto e distruggiamo gli ambienti in cui vivono questi animali. I coronavirus vivono pacificamente nei pipistrelli. È stato stimato in alcune ricerche fatte recentemente, ad esempio nel sud-est asiatico, che ci sono più di 4.000 ceppi di coronavirus che vivono in circa 500 specie di pipistrelli. In totale nel mondo ci sono 1.400 specie circa, quindi probabilmente ce ne sono molti di più. E questi coronavirus possono essere molto simili al SARS-CoV-2 che ha causato la pandemia da Covid. Quindi c'è un potenziale che entrare in contatto con questi animali e entrare in contatto con questi virus può portare al cosiddetto spillover, ovvero il salto di specie in cui il virus che viveva come commensale o causava malattie soltanto in certi animali possa provocare delle zonosi, infettare uomini e modificarsi e magari diventare il nuovo vettore di una nuova pandemia. Se guardiamo oggi coronavirus, 5 su 7 coronavirus umani, compreso il SARS-CoV-2, il virus della SARS, il virus della MERS e alcuni dei coronavirus che circolano da sempre come vettori di quello che sono i comuni raffreddori, vengono dai pipistrelli. Quindi è importante capire che questa interazione con queste specie animali può portare alle pandemie del domani ed è per questo che dobbiamo stare molto attenti e monitorare molto attentamente quello che succede perché qualcosa come quello che è successo con il SARS-CoV-2 può succedere ancora. Avete sentito? Più di 4.000 tipi di coronavirus. Quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. E anche il virus di Ebola, come sapete, un virus che causa queste febbrie emorragiche terrificanti con una mortalità fino al 50% e che ha causato in Africa nel 2014-2015 un'epidemia che non si era mai vista con più di 11.000 morti in paesi estremamente poveri che sono stati letteralmente messi in ginocchio da questa epidemia. Ecco, questo è un altro esempio di altri virus che dobbiamo monitorare attentamente e dobbiamo pensare come avere delle contromisure, come sviluppare vaccini, anticorpi monoclonali e antivirali che ci possano permettere di difenderci da questi patogeni. e come sapete anche il virus cosiddetto del West Nile che è presente in Veneto, ad esempio, anche per questo non ci sono vaccini disponibili e dobbiamo pensare a come fare meglio. Ma quello che forse è il candidato numero uno per quella che potrebbe essere la prossima pandemia rimane l'influenza. L'influenza dal 1900 ha causato quattro pandemie, quindi piuttosto regolarmente, tra circa 10-40 anni di intervallo, causa pandemie umane. Quindi dobbiamo essere pronti che l'influenza rimane il candidato numero uno. E come sapete, in questo periodo si parla molto dell'influenza aviaria. L'influenza aviaria ha ucciso quasi 400 milioni di volatili negli ultimi anni in tutto il mondo. Un numero incredibile, difficile anche da immaginare. E si sono viste infezioni anche in mammiferi, quali ad esempio i visoni, nelle foche. Quindi dobbiamo pensare e monitorare attentamente come vanno questi ceppi di aviaria, perché questo potrebbe essere uno dei veicoli per causare ceppi influenzali adattati all'uomo che possano causare la pandemia di domani. Quindi l'influenza rimane una nostra priorità e rimane un'area su cui lavorare, su cui pensare come avere vaccini efficaci quanto prima e pensare come avere anche antivirali che ci possono aiutare. Non potrei concludere parlando di quella che è chiamata la pandemia silente, che in realtà non è silente per niente, che è l'antibiotico resistenza. Si dice silente, ma non lo è. 35.000 persone muoiono ogni anno nell'Unione Europea per colpa della resistenza agli antibiotici, ovvero ci sono pazienti negli ospedali, fragili o anche meno fragili, che purtroppo vengono infettati con dei batteri che sono multiresistenti e per cui nessuno degli antibiotici che abbiamo a disposizione è efficace. E quindi muoiono. Questo è un grosso problema. È un problema molto difficile da risolvere, perché purtroppo non abbiamo antibiotici all'orizzonte che possano aiutarci in questo senso. La prima cosa da fare è cercare di usare meglio gli antibiotici che abbiamo. L'Italia è uno dei paesi in cui c'è un abuso di antibiotici, si usano troppo spesso in modo non giustificato e quindi sebbene ci siano circostanze in cui effettivamente l'uso dell'antibiotico è appropriato, in molte altre non lo è. Gli antibiotici sono anche questi un bene prezioso. Dobbiamo usarli al meglio e questo è l'unico modo per frenare la diffusione dell'antibiotico resistenza. Però l'antibiotico resistenza non si può fermare. È un fenomeno, è una lotta darwiniana per l'eternità tra noi e i batteri e quindi quello che dobbiamo fare è pensare come avere nuovi antibiotici con nuovi meccanismi che ci possano permettere di portarci avanti e di curare le infezioni che ad oggi sono molto difficili da trattare e in molti casi purtroppo impossibile. Quindi la sfida dell'antibiotico resistenza è una delle aree più importanti di salute pubblica su cui dobbiamo focalizzarci e dobbiamo pensare come poter far meglio. Quindi noi che cosa stiamo facendo? Come detto, la cosa importante per noi come EMA soprattutto è pensare come avanzare vaccini, antivirali, farmaci, antibiotici che ci possano aiutare a contrastare tutti questi rischi del domani. E questo dobbiamo iniziare a farlo adesso. Non possiamo aspettare che ci sia una crisi e poi solo allora pensare come sviluppare vaccini antibiotici. Ad esempio ricordo che nel 2018 l'Organizzazione Mondiale della Sanità mi chiese di presiedere un meeting su MERS. MERS è un altro coronavirus che è endemico in Arabia Saudita e nella penisola arabica e per cui non c'era nessun vaccino e nessun antivirale disponibile. E noi laconicamente constatammo che purtroppo non c'era nessuno nel settore privato interessato a sviluppare un vaccino per la MERS. Così come non c'era nessuno interessato a sviluppare un vaccino per la SARS. E se avessimo avuto un vaccino per la SARS già dal 2018 sarebbe stato ancora più facile avere dei vaccini adattati per il SARS-CoV-2 e disponibili ancora prima durante la pandemia che abbiamo vissuto. quindi l'importanza della preparazione l'importanza di avanzare i prodotti fin da subito non aspettare la crisi lavorare su prototipi di vaccini sui patogeni che conosciamo possono avere un rischio domani e iniziare a sviluppare vaccini antivirali. E inoltre il monitoraggio dobbiamo monitorare cosa succede nel mondo capire cosa sta emergendo ad esempio avrete sicuramente letto i giornali in questi giorni si parla di queste nuove polmoniti che si stanno sviluppando in Cina molto misteriose ebbene è molto importante che lavoriamo congiuntamente con tutti i paesi del mondo per cercare di avere informazioni di prima mano così che tutti possiamo capire che cosa sta succedendo e se c'è un rischio possiamo iniziare a prendere delle contromisure il prima possibile. Quindi l'informazione globale è fondamentale la rete di monitoraggio è importantissima questa va stabilita, va mantenuta ed è importante che noi siamo attivi appena qualcosa succede così che possiamo prendere tutte le contromisure necessarie. In Europa oltre al lavoro che noi facciamo con EMA collaboriamo anche con altre agenzie come l'agenzia CDC che è per il controllo delle malattie che è a Stoccolma ma anche e soprattutto con un nuovo organismo creato nella commissione che si chiama ERA che ha lo scopo essenzialmente di dare fondi e sviluppare vaccini e farmaci per l'emergenza di domani. Quindi molto importante che ci sia questa attività e questo nuovo organismo. Tutti gli stati membri collaborano all'interno di ERA e l'idea è di creare un fronte comune che ci permetta di avanzare tutte queste contromisure che salvano vite nel caso di un'emergenza e hanno un grandissimo vantaggio nel ridurre l'impatto economico delle emergenze del domani. Però molto di più va fatto. Ad esempio l'Europa dopo la pandemia di influenza nel 2009 rimaneva il continente con la più alta capacità di produzione di vaccini e di ricerca sui vaccini. Dopo di allora c'è stato un degrado costante che non si è ancora fermato. Quindi è molto importante che riportiamo questa capacità di produzione ma anche di innovazione in Europa perché questo ne va della nostra biosecurezza. Dobbiamo lavorare di più in questo senso e meglio per avere un'Europa che sia in grado di fornirci di questi vaccini e di questi farmaci il prima possibile e di fronte alle emergenze del domani. Tanto per dirvi l'americana NIH il National Institute of Health prima della pandemia aveva investito più di 17 miliardi di dollari in ricerca di vaccini per questo tipo di patogeni e questo ha permesso di avanzare velocemente anche i vaccini a RNA messaggero. Dobbiamo contribuire a questo sforzo avere una visione globale avere una visione europea che ci permetta di affrontare queste crisi di domani. Quindi per concludere quello che posso dire è che la domanda riguardo alla prossima pandemia non è se ci sarà ma quando. Questo purtroppo è inevitabile ci saranno altre pandemie magari non saranno devastanti come quella che abbiamo appena vissuto magari saranno delle epidemie più circoscritte ma ci saranno quindi dobbiamo essere pronti ad affrontarle. Quindi è tempo veramente di costruire un tetto solido per tutti noi sotto cui dormire sonni tranquilli in vista della prossima tempesta. Grazie. Grazie professore ci intratterremo con lei a lungo ma sappiamo che ha un impegno inderogabile la sua lezione è chiara insomma dalla storia bisogna imparare per non ricadere ancora nel buio che abbiamo attraversato. Io la ringrazio molto Grazie a voi Grazie a lei Arrivederci Buona serata e per quanto ci riguarda è il momento di fare un'altra breve pausa poi continueremo parlando di ecosisteme parlando anche dei lavori del futuro quindi ci vediamo tra poco con il Festival del Futuro Grazie Dopo tutte le ricette che abbiamo creato avremmo potuto dedicarci ad altro e invece abbiamo realizzato la sfoglia più sottile di sempre per esaltare un ripieno ancora più cremoso così il raviolo si scioglie in bocca Nuovi sfogliavelo ancora una volta ancora più buoni e per il corredo si vedrà Grazie a tutti 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 Grazie a tutti